Non è pensabile che per la stabilità europea crollino le scuole. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi stamane al Politecnico di Milano parla ai dottorandi in ingegneria e architettura e insiste necessario un piano di redenzione che metta in sicurezza il paese. Metteremo i soldi necessari, torna a rassicurare, ricordando l'importanza dei borghi nel tessuto economico e culturale italiano. Intanto si procede con le stime dei nuovi danni causati dalla forte scossa di stanotte di magnitudo 4.8 con epicentro nei pressi di Pieve e Torina in provincia di Macerata. Nessuno perderà l'anno, ha rassicurato in un'intervista il ministro dell'istruzione Giannini spiegando Stiamo trovando soluzioni per 220 scuole, confidiamo moltissimo nella capacità della Commissione UE di comprendere la situazione eccezionale, ha detto il ministro delle infrastrutture del Rio, intervistato sulle spese necessarie nel post-sisma. Sale il tasso di disoccupazione a settembre, secondo le stime provvisorie dell'Istat, pari all'11,7 in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. La stima dei senza lavoro cresce del 2% dopo il calo registrato a luglio-agosto e arriva a 3 milioni, cala invece dell'1,2% rispetto al mese precedente il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni. La polizia criminale di Berlino ha arrestato la notte scorsa un sospetto terrorista di 27 anni nel quartiere di Schoenenberg. L'uomo che sarebbe siriano è sospettato di essere un membro di un'organizzazione terroristica straniera ed era in Germania dal 2015, secondo alcuni media è considerato altamente pericoloso. Combattete e colpite Turchia e Arabia è l'ultimo messaggio audio del leader dell'ISIS al Baghdadi che dopo un anno di silenzio lancia un appello ai suoi combattenti affinché mantengano il controllo di Mosul, raccaforte dello Stato Islamico nel nord dell'Iraq. Secondo l'intelligence kurda, il Baghdadi si troverebbe ancora in città e la sua morte significherebbe la fine dell'ISIS. Intanto esplode l'emergenza, sfollati a Mosul. Secondo l'ONU sarebbero già 21.000 le persone che hanno abbandonato le loro case a seguito dell'offensiva di Baghdad. Calce Europa League protagonista oggi con gli incontri della quarta giornata dei gironi. Quattro le italiane in campo si apre alle 19 con Austria-Vienna, Roma e Sassuolo Rapide-Vienna. Alle 21.05 avremo Fiorentina, Slovan-Liberec e Southampton-Inter. Sulla panchina nerazzurra ci sarà il tecnico della primavera Stefano Vecchi, chiamato a sostituire momentaneamente l'esonerato Frank de Boer.